Adesso nel trasmettere su, lì diciamo sia, stop. E come va a fare la società, se non lo va a fare la società, la facciamo a fuori. Allora, tu stai attento un minuto, capisci tu? Va. Le mette dei budget in tutti, uno, sei, cinque, cinquanta, mele, di metto. E sono soldi virtuali. Però deviendono soldi? Aspetta, come deviendono soldi? Ci vado a fare la società, io con una scatina. I carri che ricevono, ma io con una scatina. I soldi virtuali diventano soldi regolari, perché non ci si daranno la libertà. Ogni diecima settimana, un giorno, quindici giorni, in base e in base, ci va la gente nostra. E controllo. Te ne riesce, come si è compagnato. Caggio per l'euro, nove mila anni a cavallo. Adesso, a sua volta, tu quando c'hai? Dici, quanta mila? C'è stata un po' grande, per dire. Caggio sui 6 mila e qua c'è la caggia. Adesso, a me non è tutta la scuola, basta. E questo, per quanto riguarda Planet Wind. In più, Planet Wind ti dà ulteriori servizi. Dal tabacchino, al bar, la paniereria, il rantebiccio. Che sei il personale interno. Questo fa parte, ad esempio, della struttura che te la gestisce. Certo. C'è l'interno di tutto. Ti dà questi servizi. In più, Planet Wind, sotto banco, ti dà il punto com. Perché è il punto inti dello stato. Il punto com ti dici premium, farfalla, piazza. non ne cae invece il punto com' Ci inti di finishedificazione altre. Inoltre o'altriere. Grazie.